ciao a tutte e ciao a tutti ben tornati o benvenuti sul mio canale se questo video vi piace ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me se poi avete piacere di supportarmi attivamente in questo mio percorso su youtube iscrivendovi al mio canale ricordatevi bene nel momento dell'iscrizione di attivare la campanellina per rimanere aggiornate o aggiornati su quelli che saranno i miei prossimi video stavolta come va bene qualcuna o qualcuno di voi penso avrà immaginato un video che parla sì dei cartoni animati è un video tag non sono stata ufficialmente taggata ho visto il video sul canale di florinda flow bag a cui tra l'altro mando un bacio poi giù in descrizione vi lascio anche il riferimento al suo canale in modo che possiate avere a possiate andare a vedere anche come florinda ha riproposto il tag mi spiace ma non so chi è stata l'ideatrice perché sento che questo tag è stato pensato da una donna quindi mi scuso tra le mie tante passioni ci sono i cartoni animati e quindi insomma mi è sembrato un tag carino simpatico spumeggiante un'occasione diversa tra le tante per stare in compagnia in maniera serena e magari farci una bella risata e eccomi qua anche con l'avete riconosciuto spank ma cominciamo con le domande allora domanda numero uno quali erano i tuoi cartoni preferiti da piccola assolutamente è lo spank georgie candy i puffi gli snorkies david gnomo mi lasciro mimiche mi mia iuara che è la cugina di mila chi smilicia insomma diciamo che se dovessi fare tutto l'elenco potrei stare qui fino a domani mattina e quindi insomma ne ho nominati solo alcuni fatemi sapere se li conoscete e se e appunto sono anche cartoni animati che voi ricordate e siamo alla domanda numero due il personaggio più amato anche qui ce ne sono tanti da lady oscar mila mimì puffetta eccolo qua lui spank candy 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 georgie e insomma lulu fiorellino anche qui insomma potrei stare a parlarne fino a domani mattina poi invece passiamo alla domanda numero tre il personaggio più odiato allora devo dire che insomma arrivare ad odiare un personaggio dei cartoni animati no ce n'erano che comunque mi stavano antipatici da l'antagonista di spank il gatto tora kiki al mister demon mi pare non mi ricordo se è corretta la pronuncia c'è il mille sciro e insomma questi che ricordo beh addirittura a volte magari nel cartone occhi di gatto mi stavano un po antipatici appunto gli antagonisti di questo trio particolare di ladre ecco questi a grandi linee poi siamo arrivati alla domanda numero quattro in chi ti identificavi e perché ma identificarmi sinceramente no anche perché insomma cioè ho avuto cioè passate me l'ho avuto e ho le mie sfighe nella vita però certi cartoni animati tipo giorgi candy candy ammazza ragazze o ragazzi no ragazze perché dubito che qualche maschietto abbia se non un costretto guardato giorgi o candy candy però sinceramente a me sarebbe tanto piaciuto essere tra essere un misto tra chila e kelly di occhi di gatto perché erano passatevi termine fighe simpatiche sveglie intraprendenti insomma assolutamente sì mi sarebbe piaciuto essere un po chi sia fisicamente lo ammetto che caratterialmente che come once gap un misto appunto tra kelly e sheila di occhi di gatto allora siamo alla domanda numero cinque il personaggio che ti ha fatto innamorare allora da dire magari qualche personaggio di un carattere animato che trovavo figo insomma ma anche no insomma erano dei disegni quindi vabbè tutto ma anche no però sì che comunque ricordo ancora è tutto insomma di nuovo lui spank allora poi siamo alla domanda numero sei una scena di un cartone che non ti dimenticherai mai ma una scena in particolare no diciamo anche qui sicuramente varie scene di occhi di gatto in cui insomma queste tre sorelle ladre molto particolari riuscivano sempre a a farla franca e sempre grazie alla loro furbizia la loro bellezza la loro intraprendenza e il fatto che comunque alla fine pur essendo delle ladre erano assolutamente delle bravissime ragazze quindi diciamo le scene finali di di questo cartone in cui le mie beniamine riuscivano a farla franca siamo arrivati alla domanda numero sette la scena più brutta è anche qui non c'è una scena in particolare ma mi mettevano sinceramente un po di tristezza tutte le disavventure che capitavano a giorgio a candy candy perché c'è poveraccia una sfiga dopo l'altra e quindi sì diciamo soprattutto per quanto riguarda georgie le puntate iniziali in cui poverina orfana la mamma adottiva che non non la sopportava insomma tutte queste ostilità mi intrestivano ecco assolutamente sì e siamo arrivati alla domanda numero otto a che età hai smesso di guardare i cartoni ma io diciamo tra a febbraio compirò 40 anni e non ho ancora ufficialmente smesso di guardare i cartoni vabbè diciamo che ogni tanto guardo vabbè magari qualche minuto giusto per però spongebob spongebob squarepants fatemi sapere se conoscete spongebob squarepants e se anche voi ogni tanto magari insomma quei due minuti date comunque un'occhiattina a quella spugnetta pucciosa ed irresistibile e siamo arrivati alla domanda numero nove vorresti tornare bambina allora per quanto io pensi di aver avuto un'infanzia bella di qualità ecco assolutamente sì poi per carità non idilliaca e ora che insomma sono passati un bel po di anni ringrazio il fatto di aver avuto un'infanzia bella ma non idilliaca no io non vorrei tornare bambina sicuramente vorrei essere per molti 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 anni ancora solo per alcuni aspetti un'eterna adolescente assolutamente sì qui so che posso attirarmi critiche posso attirarmi dislike ma me ne infischio e quindi no e anzi diciamo che più che tornare bambina preferirei che fossero diciamo migliorare alcuni aspetti della mia vita adesso da tra virgolette adulta ecco assolutamente sì e siamo arrivati alla domanda numero dieci cosa faresti se tornassi bambina allora diciamo che non farei nulla di particolare o cambierei qualcosa che ho fatto perché appunto ritengo di aver avuto un'infanzia non idilliaca ma bella è stato un periodo della mia vita e insomma non rifarei nulla di diverso da quello che posso aver fatto da bambina è andata diciamo benissimo così e siamo arrivati alla domanda numero 10 più uno quindi 11 e qui canta un pezzo della sigla di un tuo cartone preferito allora qui attenzione perché sono non stonata come una campana ma di più e quindi insomma cercherò di essere non breve ma brevissimissima teniamo qui spank e hello spank il mio papà hello spank ecco direi che così è più che sufficiente e passiamo alla domanda numero 10 più 2 quindi 12 un cartone che ti sentiresti di consigliare allora anche qui mi diciamo collego alla risposta che ha dato florinda qui rimando tra l'altro un bacio e io non mi se mi sentirei di consigliare diciamo cartone animati che posso aver visto io a persone che vanno dai 33 34 ai 42 43 insomma questa è la fascia a cui sinceramente proprio per un discorso anche pesatemi il termine culturale consiglierei di vedere i cartoni animati che ho visto e apprezzato io e che insomma e che comunque hanno che per me sono stati proprio diciamo il segno distintivo di un'epoca assolutamente sì anche per questo insomma ho avuto un immenso piacere nel proporre questo tag allora assolutamente ma questo proprio una sbirciatina a spongebob squarepants ci vuole occhi di gatto con sheila kelly e tati candy candy giorgi i puffi mille shiro mi mi aiuara lulu fiorellino giramondo e anche qui insomma è lo spank è lo spank e qui insomma mi fermo perché altrimenti insomma anche qui invece rischierei di arrivare a domani mattina e a questo punto insomma è arrivato anche il momento diciamo di taggare ufficialmente naturalmente se poi una persona che non è stata ufficialmente taggata vede questo tag come me lo trova carino lo trova figo spumeggiante e voglia di riproporlo insomma liberissima di riproporlo come se invece una persona che taggo in maniera tra virgolette più ufficiale vede che per motivi x non è nelle sue corde liberissima di non riproporlo ci mancherebbe altro allora però insomma ecco queste nomination di persone taggate allora io taggo barbara del canale rosa blu taggo betty del canale betty 82 carmen del canale carmen petrini ed elisa del canale elisa sinigaglia ripeto con tutta la libertà poi di riproporre o non riproporre il tag non c'è nessun obbligo e nessun tipo di problema da parte mia io vi ringrazio per aver visto questo mio video fin qua ringrazio tutte le persone vecchi iscritti nuovi iscritti che mi sostengono sbizzarritevi giù nei commenti fatemi sapere anche un po quella che è la vostra opinione riguardo proprio i cartoni animati se li ricordate con piacere se invece magari proprio non li sopportavate se appunto conoscete i cartoni che ho nominato quali cartoni animati guardavate se anche per voi sono stati proprio il sigillo il segno di un'epoca insomma ditemi la vostra e sbizzarritevi io vi ringrazio ancora per tutto insomma il sostegno che mi date grazie veramente di cuore vi mando un bacio grande un altro e un altro ancora vi saluto eccolo qui anche con spank ciao a tutte ciao a tutti ci vediamo nel mio prossimo video ciao ciao